Come si immagina una libreria Centrinelli nel futuro? Ma come sono nostri di adesso? Tanti titoli, tanti editori, non solamente bestseller, anche nelle città, gli autori della città, locale, tanti servizi di prenotazione, di gadget, di musica, un luogo di attrazione per i giovani. E ancora una domanda, carte digitali possono essere alleati nel futuro? Io sono contrario, sono una vecchia dinosaura, amo solamente il libro di cartacce, però c'è un futuro anche per ibook, per le università, eccetera, eccetera, per le scuole, per i viaggi, eccetera. E non si può scrivere dentro, non si può aprire, un autore non può fare una dedica, un libro, high tech, che io audio.